ciao a tutti da kugla green center io sono giovanni oggi voglio parlare di potatore elettrico a batteria plug in della campagnola modello ticat all'interno della confezione possiamo trovare il potatore elettrico due batterie un caricabatterie per poter caricare in contemporanea due batterie l'olio per la lubrificazione della catena il suo libretto di uso e manutenzione adesso andiamo a vedere il funzionamento di questo potatore innanzitutto l'inserimento della batteria prendiamo la nostra macchina batteria innesto bayonetta premiamo la batteria inserita dopodiché andiamo togliere la protezione della lama pulsante per l'accensione che andiamo premere la macchina è accesa e adesso premiamo la sicura ed ecco la vostra macchina questa macchina ci permette di fare dei tagli fino a 80 mm in più abbiamo questo display dove ci indica la percentuale di carica della batteria per lo spegnimento di questa macchina si va a premere il pulsante che abbiamo qui sotto spento il display spenta la macchina altra cosa per tensionare la nostra catena andremo ad allentare e con un cacciavite andremo a registrare la tensione della catena dopodiché andremo a stringere di nuovo il nostro fermo ed ecco che la nostra macchina è pronta mi raccomando sempre la sua protezione alcuni punti di forza di questa macchina innanzitutto macchina molto compatta molto maneggevole e soprattutto molto leggera solamente un chilogrammo ricordate di seguirci sui nostri canali youtube e social e se volete rimanere informati sulle nostre offerte e novità sul nostro sito ufficiale di google green center grazie e alla prossima e mi raccomando metti un mi piace grazie